Habakkuk, capitolo primo, oracolo che il profeta Habakkuk ebbe per visione. Fino a quando, eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto. Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? E perché mi stanno dinnanzi la rapina e la violenza? Vi son liti e sorge la discordia, perciò la legge è senza forza e il diritto non fa strada, perché l'empio agira il giusto e il diritto n'esce pervertito. Vedete fra le nazioni? Guardate, meravigliatevi e siate stupefatti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste se ve la raccontassero, perché ecco io sto per suscitare i caldei, questa nazione aspra e impetuosa che percorre la terra quant'è larga per impadronirsi di dimore che non son sue. È terribile, formidabile, e il suo diritto e la sua grandezza emanano da lui stesso. I suoi cavalli son più veloci dei leopardi, più agili dei lupi sulla sera, i suoi cavalieri procedon con fierezza, i suoi cavalieri vengan da lontano, volan come l'aquila che piomba sulla preda. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Le loro facce bramose sono tesi in avanti e ammassan prigionieri senza numero come l'arena. Si fanno beffe dei re, e i principi son per essi oggetto di scherno, si ridono di tutte le fortezze, e ammontano un po' di terra, e le prendono. Poi passano come il vento, passano oltre, e si rendono colpevoli, questa loro forza è il loro Dio. Non sei tu ad antico o eterno il mio Dio, il mio santo? Noi non morremo. O eterno, tu l'hai posto questo popolo per esercitare i tuoi giudizi, tu, o Rocca, l'hai stabilito per infliggere i tuoi castighi, tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, Perché guardi i perfidi e taci, quando il malvagio divora l'uomo che è il più giusto di lui? E perché rendi gli uomini come i pesci del mare, come i retteli che non hanno, Signore? Il caldeo li trae tutti su con l'amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo giacco, perché si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete, e offre profumi al suo giacchio, perché per essi la sua parte è grassa e il suo cibo è succolento. Dov'egli per questo seguire a votare la sua rete e massacrar del continuo le nazioni senza pietà? Abacoc, capitolo secondo Io starò alla mia vedetta, mi porterò sopra una torre e starò attento a quello che l'Eterno mi dirà, e a quello che dovrò rispondere circa la dimostranza che ho fatto. E l'Eterno mi rispose e disse, scrivi la visione, incidila su delle tavole, poiché si possa leggere speditamente, poiché è una visione per un tempo già fissato. Ella s'affretta verso la fine e non mentirà, se tarda aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà. Ecco, l'anima mia se gonfia, non è retta in lui, ma il giusto vivrà per la sua fede, e poi il vino che è perfido, e l'uomo arrogante non può starsene tranquillo. Egli allarga le sue brame come il soggiorno dei morti e come la morte, e non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli, tutti quelli non faranno contro di lui proverbi, sarcasmi e enimmi. Si dirà, guai a colui che accumula ciò che non è suo, fino a quando, guai a colui che si carica di pegni, i tuoi creditori non si leveranno essi ad un tratto, e i tuoi tormentatori non si desteranno essi, e tu diventerai loro preda. Poiché tu hai saccheggiato molte nazioni, tutto il resto dei popoli ti saccheggerà, a motivo del sangue umano sparso, della violenza fatta ai paesi, alle città, e a tutti i loro abitanti. Guai a colui che è avido di illecito guadagno per la sua casa, per porre il suo nido in alto e mettersi al sicuro dalla mano della sventura. Tu hai divisato l'onta della tua casa, sterminando molti popoli, e hai peccato contro te stesso, poiché la pietra grida dalla parete, e la trave le risponde dall'armatura di legname. Guai a colui che edifica la città col sangue, e fonda una città sull'iniquità. Ecco, questo non procede egli dall'Eterno, che i popoli si affatichino per il fuoco, e le nazioni si stanchino per nulla. Poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno, come le acque coprono il fondo del mare. Guai a colui che dà da bere al prossimo, e a te che gli versi il tuo veleno e l'ubriachi per guadagnare la sua nudità. Tu sarai saziato d'onta anziché di gloria. Bevi anche tu, e scopri la tua incirconcisione. La coppa della destra dell'Eterno farà il giro fino a te, e l'ignominia coprerà la tua gloria, poiché la violenza fatta al Libano e la devastazione che spaventava le bestie ricadranno su te a motivo del sangue umano sparso, e dalla violenza fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro abitanti. A che giova l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? A che giova l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice si confidi nel suo lavoro fabbricando idoli muti? Guai a chi dice al legno, svegliati e alla pietra muta levati. Può essa maestrare? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma non vè in lei spirito alcuno. Ma l'Eterno è nel suo Tempio Santo. Tutta la terra faccia silenzio in presenza sua. Habakkuk Capitolo terzo Preghiera del profeta Habakkuk sopra Shigionoth O Eterno, io ho udito il tuo messaggio e son preso da timore. O Eterno, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere, nell'ira ricorditi d'aver pietà. Il Dio viene da Teman e il Santo viene dal monte di Param. La sua gloria copre i cieli, e la terra è piena della sua lode. Il suo splendore pare la luce, dei raggi partono dalla sua mano, ivi si nasconde la sua potenza, davanti a lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi. Egli si ferma e scuote la terra, e guarda e fa tremare le nazioni. I monti eterni si frantumano, i colli antichi s'abbassano, le sue vie son quelle d'un tempo. Io vedo nell'afflizione le tende d'Etiopia, e i padiglioni del paese di Madian tremano. O Eterno, t'addiri tu contro i fiumi? Egli contro i fiumi che s'accende l'ira tua, o contro il mare che va il tuo sdegno, che tu avanzi sui tuoi cavalli, sui tuoi carri di vittoria? Il tuo arco è messo a nudo, i dardi lanciati dalla tua parola sono esacrazioni. Tu fendi la terra in tanti letti di fiumi, i monti ti vedano e tremano, passa una piena d'acque, l'abisso fa udire la sua voce, e leva in alto le mani, il sole e la luna si fermano nella loro dimora, si cammina alla luce delle tue saette, a lampeggiare la tua lancia sfolgorante. Tu percorri la terra nella tua indignazione, tu schiacci le nazioni nella tua ira, tu esci per salvare il tuo popolo, per liberare il tuo unto, tu abbatti la sommità della casa dell'Empio, e la demolisci da capo a fondo. Tu trafiggi coi loro propri dardi la testa dei suoi capi, che vengono come un uragano per disperdermi, mandando gridi di gioia, come se già divorassero il misero nei loro nascondigli, con i tuoi cavalli tu calpesti il mare, le grandi acque sfumeggianti. Ho udito, e le mie viscere fremono, le mie labbra tremono a quella voce, un tarlo mentre nelle ossa, e io tremo qui dove sto, a dover aspettare in silenzio il dì della distretta, quando il nemico salirà contro il popolo per assalirlo. Poiché il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'olivo fallirà, e i campi non daranno più cibo, i greggi verranno a mancare negli ovili, e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nell'Eterno, ed esulterò nell'iddio della mia salvezza, l'Eterno, il Signore, la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve, e mi farà camminare sui miei alti luoghi. Al capo dei musici per strumenti a corda.